E' lo Stadio Matusa, la decima giornata del campionato di prima divisione, Frosinone Benevento Kick-off, si parte, la palla arriva dalle parti di Daniel Ciopani, Daniel Ciopani, la poncia, attenzione E' rosso E' Anaclerio che viene espulso, quindi Benevento in dieci uomini Calcio di punizione, occhio ad Andrea Gessa, fischio dell'arbitro, va Gessa, breve rincorsa, la palla gira, alta sopra la traversa Aurelio va ancora un altro pallone in mezzo per Daniel Ciopani che fa la torre, per Curiale, che non riesce a tenerla lì Poi Ciopani calcio! Sul fondo Daniel Ciopani Occhio al Benevento, evacuo, palla dentro, per la conclusione e la prudezza di Massimo Zappino su Espinal C'è l'esterno, mette un pallone interessante in mezzo, per Torcilla, tocca, Frarano! No capitano, no Pensare al cross, Frara, cross che arriva sul secondo palo per Daniel Ciopani che stacca di tetta! Traversa di Daniel Ciopani, poi Curiale ha commesso pallo Aurelio la mette in mezzo, spazza via di Deo! Cesare, piazza troppo la mira E' finita, 0-0, Frosinone Benevento C'è un pizzico di delusione per Matusa